ehi siri penso di sì ehi siri mi racconti una barzelletta preparati cosa dice la pasta quando vuoi parlarle sono tutte orecchiette ci lascio più ragazzi negli ultimi cinque mesi da quando è nata mia figlia penso che avrò dormito in totale e non esagero 50 ore vabbè cinque ore no quattro ore e mezza a notte però vabbè comunque raga non mi regge ne la faccio più veramente bentornati e ben ritrovati vi ringrazio immensamente per il supporto che comunque state continuando a dare a questa serie io ci riprovo nuovamente entro le 18 qualora arrivassero 2500 mi piace preparatevi perché vi porto il doppio episodio di giornata insieme al buon Fabio e preparatevi perché ho in mente un intro di quelle pazzesche dipende tutto da voi fatemi capire che volete il doppio episodio di giornata c'è un secondo modo per sbloccarlo se non arrivano i 2500 mi piace sempre entro le 18 200 nuovi iscritti ovviamente controllerò qualora arrivassero sappiate che avete garantito il doppio episodio di giornata mi raccomando seguitemi per non perdervi neanche un video iscrivendovi e attivando la campanella fatelo pure sul primo canale youtube e c'ho anche un canale extra calcio dove cercherò questa settimana di tornare più attivo canali tutti qui sotto in descrizione compariranno qui durante il video qual era indovina indovinello? ah mamma mia ragazzi che indovina indovinello cosa c'è nel mio cappello avevo detto eh si stava di Sevilla, come si chiama? eh Toronto, Toronto no? Sì un calciatore del Toronto ex Serie A che sta là che si sta più a botte a fare non litigato e via dicendo potrebbe tornare in Serie A vorrebbe tornare in Serie A primo perché so mi pare ultimi in classifica o qualcosa del genere e secondo perché non si trova più bene insomma ci sono state delle situazioni il Bologna si è affiondato sul calciatore e lui avrebbe dato anche una sorta di disponibilità a vestire la casacca del Bologna sì lo avete indovinato in tanti, vi ho lasciato cuore e stiamo parlando di Bernardeschi ma la notizia che arriva questa mattina perché ovviamente questa del Bernardeschi al Bologna ve l'ho detta ieri è che anche il Napoli sarebbe interessato a Bernardeschi tra Bologna e Napoli che può scegliere secondo voi? ci arriviamo con calma, fatto sta che lo depenno ovviamente non ho scritto Bernardeschi, mi sono scordato Bernardeschi Bologna e lo Bologna e lo depenno benissimo devo farvi un nuovo indovina, indovinello eh, e mo qua te voglio allora eh, ve faccio questa va è sempre, ragazzi è semplice, ma veramente semplicissima se ne indovinate significa che non seguite il calciomercato l'Inter ovviamente adesso che è sfumato Lukaku o meglio che hanno deciso di non comprare Romelu Lukaku per tutto quello che è successo starebbe puntando, puntando vari attaccanti tra i vari attaccanti c'è la prima punta dello Spezia devo aggiungere altro? chi è? scrivetemelo qui sotto nei commenti lascio cuore a chi indovinerà e ne parliamo ovviamente nel prossimo episodio non so se oggi o domani allora, Onana ormai è praticamente un nuovo calcio dice ma ancora? dice hai dato l'ufficialità un mese fa ragazzi, ancora non è definitivamente chiusata si sta chiudendo in questo esatto momento 50 milioni di euro più bonus sono soldi freschissimi che serviranno all'Inter per comprare l'attaccante per andare a rinforzarsi no, un po' di qua un po' di là ma io poi qua l'interno non ho scritto quadrato e non ne parliamo tra pochi mi sono scordato di scrivere le cose quindi operazione comunque importante di calciomercato perché voi capite bene che lo United si ritrova un portiere per il futuro De Gea l'ha sfanculato praticamente e dovrebbe andare a tornare in Spagna e andare al Siviglia io credo che De Gea sia ancora un portiere integro che possa dare tanto quindi la vedo come uno per cioè si ok cominciare a programmare al futuro e il portiere del futuro ma io tutto sto macello tutto sto casino quanti anni c'ha De Gea? fammi andare a vedere chi ha poi c'ha 118 anni no, per 32 anni ma dai ma un portiere in altre 2-3 stagioni poi ci avrei pensato vabbè ma là c'hanno i soldi da spendere giustamente non si è bada non si è bada a spese e fa l'affare il Siviglia secondo me perché se lo piglia su Hparra praticamente da quello che ho capito è il parametro zero perché non so se riesca del contratto se si svincola manco me interessa Reteghi fa un ulteriore passo verso la serie A il Genoa sta insistendo e sembra stia sortendo effetto questo suo insistere nel volerlo acquistare a titolo definitivo tra l'altro operazione di calciopercato non ho capito da quanti milioni di euro perché non sono trapelate le cifre è un calciatore che comunque ci ha avuto un cammino importante col Tigre scusate Mar Pappagallo come se sta eccita ma poi anche Roberto Mancini che gli ha dato quella possibilità ha fatto innalzare ovviamente quella che è la valutazione di calciomercato quindi Genoa prenditela con Mancini se non riesce a chiudere st'operazione per cifre decenti sto scherzando ma non troppo e ok Messi è stato finalmente presentato ragazzi io mi ricordo manco Deannato che è New York City New York Angeles New York City Miami Miami ok scusa cheat very cheat non so se seguivate di o sì e niente è stato presentato l'hanno beccato a fa spesa hanno visto quello che si compra non si è capito niente perché tutti i prodotti americani detto questo andiamo avanti perché Tadic che è fresco di rescissione con l'Ajax si è legato al Fenerbace quindi dietro sta rescissione la nonna e la zia il Fenerbace gli ha detto se te svincoli do 100 milioni di euro all'anno se invece non te svincoli devo pagare il costo del tuo cartellino l'Ajax mi rompe i coglioni e non te don una lira non lo so ironia portami via però Tadic al Fenerbace è sicuramente un acquisto che intriga secondo me detto questo questo è molto pesante secondo me perché poi c'è di mezzo un calciatore del Manchester City un calciatore importante comunque per il Manchester City c'è di mezzo come sempre la Saudi Pro League c'è di mezzo un'offerta di 50 milioni di euro all'anno 50 milioni di euro all'anno per le prossime due stagioni 100 milioni di euro totali al calciatore che ovviamente appena sentito Puzza adesso Ordi se ne vuole annà stiamo parlando di Riyad Marez ragazzi non un giocatore qualunque l'offerta perviene dalla Lali quindi preparatevi perché poi la Lali offre 35 milioni di euro al City il City chiede di più se non sbaglio chiede una cinquantina di milioni di euro ma io sono molto fiducioso che questa operazione di calciomercato alla fine si farà e si chiuderà tanta tanta roba ragazzi preparatevi non passatevi si temeriche detto questo ho un deja vu detto questo Gaetano potrebbe andare all'Udinese e qualcuno potrebbe dire perché per due motivi in realtà uno e poi ne parliamo sicuramente nel prossimo contenuto perché di Napoli volevo dirvi in realtà vi ho già detto qualcosa però penso vi dirò qualche altra cosa non questa operazione di calciomercato offrono all'Udinese Gaetano per arrivare ad un altro calciatore calciatore importante centrocampista Gaetano avrebbe già dato la disponibilità per trasferirsi all'Udinese e comunque conosciamo l'Udinese è quella classica squadra stile Atalanta che questi giocatori giovani e de prospettiva li butta nella mischia e può tirarci fuori qualcosa qualcosa di importante ne riparleremo più nel dettaglio sicuramente nel prossimo contenuto Castellanos o Castellanos sta effettuando in questo momento le visite mediche alla Paideia Paidei Paidei vabbè comunque sta effettuando sta effettuando le visite mediche 15 milioni di euro più 5 di bonus è un nuovo calciatore della Lazio farà ovviamente il vice giro immobile l'investimento è particolarmente importante lo stesso Lodito ha detto speso un botto di sordi ma sono impazzito praticamente curiosissimo di vederlo all'opera chi lo sa magari ci farò un contenuto dedicato in cui analizzerò sul primo canale YouTube più nel dettaglio questa operazione ragazzi che già sapevamo e riparleremo sicuramente anche di questo perché secondo me alla fine l'operazione di calciomercato si chiuderà su ciò Felix c'è l'interesse del Barcellona attualmente è un giocatore dell'Atletico Madrid c'è l'interesse anche dell'altra squadra c'è l'interesse che non mi ricordo c'è l'interesse anche dell'Aston Villa ovviglia David ecco forse una squadra come l'Aston Villa secondo me potrebbe dargli quella tranquillità senza troppe pretese per tornare ad esprimersi ad alti livelli e magari fare quel salto di qualità che tanti si aspettavano e che finora in realtà non è mai stato fatto perché poi vi ricordate se parlavate di Joe Felix come di un calciatore e poi si è perso un bel po' per strada sono tanti i calciatori che fanno queste cose queste situazioni Arthur è vicinissimo non è mai stato così vicino a vestire la casacca della Fiorentina io vi leggo la notizia perché è qualche minuto fa Arthur Fiorentina traguardo sempre più vicino il centrocampista brasiliano è sempre più vicino a vestire viola contatti positivi tra Fiorentina e Juventus per trovare una quadratura tra la cifra del prestito e quella del riscatto oltre al contributo sull'ingaggio dato dai bianconei che contribuiranno appunto oggi è in programma un nuovo appuntamento telefonico e domani potrebbe essere il giorno decisivo per arrivare alla chiusura definitiva dell'affare io continuo a ribadire per quanto poi so già quello che pensano soprattutto i diffusi della Juventus di Arthur quello che si pensa in generale è un calciatore finito scarso scandaloso secondo me arrivato ipoteticamente alla Fiorentina e messo lì titolare può fare una differenza di quelle in mani una piazza più tranquilla lui che tecnicamente non è scarso non è l'ultimo pippone arrivato quindi preparatevi perché secondo me guarda Arthur alla Fiorentina peggio dei cullo dei campioni ok detto questo non ho detto nulla sul Milan e credo sia il caso di farlo perché il Milan mette sul piatto Messias o Pobega al Torino anzi fammi scrivere pure Pobega Messias o Pobega non entrambi al Torino guarda che appacevano entrambi Torino che comunque non ha rifiutato questa proposta dice ma per chi però per un calciatore un esterno che il Milan già da settimane sta cercando se non addirittura da mesi perché non è la prima volta che sentiamo l'accostamento di questo calciatore al Milan sto parlando di Singo o Singo chiamatelo come vi pare valutazione di circa 12 milioni di euro quindi fate particolare attenzione perché Sport Italia se non sbaglio ieri sera addirittura ha detto che l'operazione non ha parlato dei scambi però ha detto l'operazione Singo con il Milan è chiusa cioè il Milan ha preso Singo o Singo che dir si voglia prendetela per il momento ancora con le pinze però io sono fiducioso che si possa chiudere questa operazione di calciomercato Blauic si dice abbia l'accordo già fatto con il Paris Saint Germain manca l'accordo con la Juventus perché la Juve chiede un sacco dei soldi per quello il Paris Saint Germain si sta guardando intorno ragazzi perché se la Juventus continua a premere su quella cifra 90 milioni di euro non credo si arrivi mai ad una chiusura a meno che il Paris Saint Germain non si impazzisce e dice si va bene vendo un Mbappé domani 200 milioni 90 te li giro a te però la situazione in Mbappé blocca ancora perché poi non è facile riuscire a vendere Mbappé in questo determinato momento storico 200 milioni di euro sono veramente tantissimi poi con anno le scadenze del contratto vale praticamente 200-250 milioni di euro cioè se chiedono veramente troppi soldi quindi a un punto interrogativo c'è un blocco in questa situazione attuale Paris Saint Germain che si sta anche guardando intorno ovviamente la Juventus che è bloccata nel chiudere l'operazione Lukaku solamente da questo perché Allegri ha chiesto solo ed esclusivamente Lukaku in caso di partenza di Vlaovic quindi non cercano a Polucci è mia volontà di rimanere alla Juventus grazie per tutto l'affetto sì ma Osgabello ti aspetta vecchi ricordi però era Milan se non mi ricordo no no era Juventus vabbè il passato che ritorna ovviamente se ripropone quindi regà dovesse veramente andarsi ad concatenare scusatemi tutta sta situazione ne uscirebbe secondo me una cosa veramente incredibile là veramente parliamo del multiverso del multiverso del multiverso mo so perso c'era una notifica particolare ragazzi aspettate fatemi vedere qua non lo so vabbè non vi posso di tutte perché sono talmente tante le notizie di calciomercato che se no rischiamo veramente le facce notte quindi che stava a dire me sono scordato e ok non vi ho detto che ma in realtà ne abbiamo già parlato qualche giorno fa che la Lazio si sta interessando alla situazione Bonucci visto che parlavamo di sgabbello quindi stanno cercando di capire la fattibilità dell'operazione di calciomercato più che altro quanto può chiedere soprattutto Bonucci in termini di stipendio l'età avanza ragazzi quindi sarebbe titolare alla Lazio con Casale e Romagnoli io mica so così convinto mica so così sicuro però sarebbe comunque alla fine per la Lazio per Sarri non lo so ho qualche dubbio vi dico la verità però volevo essere buono non lo so vabbè vediamo vediamo che cosa che cosa accadrà su Lukaku come dicevo regà veramente è multiverso vero e proprio perché poi Lukaku e la Juventus quadrato che addirittura va all'Inter l'Inter che ti chiude st'operazione di calciomercato un 4-4-8 dice sì ma quadrato se era svincolato sì ma di tante squadre proprio alla diretta concorrente rivale a Cerri rimane mica di sempre l'Inter sì perché è così che funziona il calciomercato di oggi ne ho parlato sul primo canale youtube andate a recuperare quel contenuto ho espresso il mio puro e semplice parere personale ma sappiate che visto che mi avete chiesto più dettagli sulla situazione Morata manca falla apposta ne ha parlato Sky Sport proprio qualche minuto fa una ventina di minuti fa all'incirca che cosa sta succedendo sulla clausola rescissoria di Morata che niente praticamente secondo l'enturace del calciatore la clausola rescissoria è di 10 barra 12 milioni di euro secondo l'Atletico Madrid è di 21 io non ho mai visto una cosa del genere cioè chi dice una cosa all'interno della stessa situazione chi dice una cosa e chi ne dice un'altra Pinto è volato in Spagna o comunque sta volando in Spagna per fare ma perché non lo può chiamare dicevo ma di quanto cazzo è sta clausola no pare che non lo può chiamare sta volando lì sta andando lì per capire se la clausola effettivamente è dei 10-12 milioni di euro Morata andrà alla Roma perché già c'ha l'accordo addirittura ha cominciato a seguire la Roma sui social no c'ha già l'accordo quindi per quella cifra verrebbe 21 milioni sono troppi se veramente effettivamente la clausola è dei 21 milioni di euro la Roma deve abbandonare questa pista e provare a cercare un altro calciatore un'altra alternativa ad Alvaro Morata io arrivati a sto punto vi dico che spero effettivamente spero che sia veramente dei 10-12 milioni di euro la clausola perché mi piacerebbe vedere Morata alla Roma seppur poi ovviamente ragazzi stiamo parlando di un calciatore che non è che ha mai fatto 20 con la stagione 30 con la stagione no a noi ci servirebbe un bomber però mi intriga la situazione soprattutto con Paolo Di Bala che so amici la sintonia una cosa e un'altra una nonna e una zia e vabbè no sul Napoli ho detto Bernardeschi questa me la riposo per il secondo spero contenuto di giornata se no ve la dico direttamente domani aggiornamenti su che si ve li do o più tardi o domani io vi ringrazio per la visione di questo contenuto viva il multiverso che cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore di calciomercato ragazzi provo ad ipotizzare Pedro che torna alla Roma so sparallà così o Romagnoli che torna alla Roma pure lui o che ne so io ditemene Nart un giocatore che Darmina non passa lì perché tanto ormai veramente sono all'ordine del giorno grazie per la visione di questo contenuto e come sempre ci vediamo alla prossima con un nuovo video ciao rica ciao